Il secondo gruppo è Fuga, Gratellini e Brevidieri della Breffer, i Gratellini della Studio Serigrafia 4. Ha un dispetto vantaggio su un gruppo. Gratellini, vincitore della Mediofondo di Tati del 2012. Eccolo qua. Si sta prestando ad arrivare al freguato e a giocarsi la volata con l'altro fletta sempre di giri della Breffer. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Due freddi ci stanno studiando per la volata. Eccolo qua. I Gratellini e i Gratellini di Silvio giocano per la volata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, oh, passati. Sì, no, però è abbastanza, è abbastanza. C'è la fine, mica, facendoci rompere monasso.